Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un po' di ritardo perché sono tornata da un po' però stavo vedendo Fiorentina Milan, pazzesca che lei prende un respiro perché se no mi arrabbio. E' stato una bella partita il pre partita perché mi è piaciuto molto la cosa su Ciro Immobile, mi ha fatto piangere anche me, mi ricordo di Bistercone, Ciro che si mette a piangere mi ha fatto emozionare molto, però la partita ragazzi male, neanche un tiro in porta, Murici proprio morto. La davanti c'era una 104, la davanti tutto è cataldi, malissimo, rigore ragazzi, potete dire che vi pare di bello, ok, sono d'accordo con lui, però il rigore c'era ragazzi, l'ha preso Murata, quindi Murata è molto facile, quindi ragazzi c'era anche il fallo di Reyna ragazzi, mamma mia, sfalciate, se l'aveva fatto a Stragoscia era già andato sulla croce. Però a Reyna non si può dire niente, va bene. Non ci sono stati qualche cross, Lazzari ha fatto quello che poteva, Pedro anche, Zaccani proprio zero, spaccato. Là dietro Luis Felipe è quello che ha potuto leggere a letto, però Juventus non è che ha fatto Isacchi, però due rigori, 2-0 ragazzi. Da Murici si mangia il gol del 1-1, Murici proprio non dovrebbe neanche giocare a calcio secondo me, però vabbè, queste sono cose mie. Poi parliamo anche un po' di Fiorentina-Milan, 4-3, mamma, è partita, Flaovic, Saponara, Ibrahimovic, 40 anni, un mostro. Imparasse Murici, questa è una partita migliore, anche se l'ho sentita alla radio un po', un po' l'ho vista, recupererò. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere le partite, Atalanta-Spezio, anche 5-2, vabbè, adoro. Anche se non mi è molto simpatica l'Atalanta, non per la squadra ma per l'allenatore e fatemi sapere quale partita avete visto, se siete stati allo stadio, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre e ci vediamo in un prossimo video. Qualcuno ha visto, la Juventus non l'abbiamo presa, Fiorentina-Milan sì, perché avevo detto gol, giusto, Atalanta-Spezio l'ho presa, quindi due su tre l'ho presa, la Juventus, infatti la schedina non l'ho fatta. Che dire, ci vediamo domani con le altre partite, ci sarà Genoa-Roma la sera, Big Matcha le 18 Inter-Napoli e che dire, ciao ragazzi, mi raccomando, non vi arrabbiate come me che non ho voce, come sempre, e la prossima volta vi porterò un po' di sorpresi. Ciao!